Stend up comedy, è uno spettacolo molto volgare, vi avviso, e Filippo ci tiene che io rincari la donna, volgarissimo, scorretto, cattivo. Signorina, interessa la questione scuola a lei? No, perché in realtà è da lì che nasce la vita, quindi che rapporto ha con la scuola? La toller o la biota? La qualsiasi volta che si parla del maschio come categoria è sempre perché siamo più stupidi, più superficiali, più stronzi. Siete? Prendete un qualsiasi programma televisivo, in qualsiasi momento una donna si può alzare e può dire questa frase, beh le donne sono letteramente più intelligenti degli uomini, stacco i telecamera, inquadrano un povero visto che è imbarazzato, beh, è proprio vero. Se vuoi fare impazzire a letto una donna, guarda i porno lesbo, li ho scoperti da poco, sono pedigli, sono completamente diversi, sono piccoli, stanno là con i pediglini, se pettino, e invece noi come siamo cresciuti? Siamo cresciuti con un porno etero che è falso, il porno etero con una sbattuta su un tavolo e fa sì, scopami, 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 quattro ore che ci vuole, e più, diventa rocco, scopami, scopami, culami, bastoni, dai! Quando è la vita reale una donna dopo un quarto ora e lo sta facendo, se è venuta ti vorrebbe solo dire ma una sigaretta no? Se le prime tre sere che tu esci a cena con una ragazza, lei non fa nemmeno il gesto di tatti, la sua metà, te la deve dare. De la vita, non manda ai miei dei sordi, sti cazzi! Non so che molte donne saranno pensando, vabbè ma veramente sei così squallido d'aver pianto per andare a letto una donna? A volte no. Le donne belle sono sopravvalutate, diciamo, perché le donne belle non sanno scopare, mi dispiace, è tutte carine, niente, invece quando scopi quei beicessi, ah! Come scopo bene le donne brutte, perché tromba ogni volta come se fosse l'ultima! Abbasso le brave ragazze, abbasso le sante, viva le troie, viva le troie! Io quindi per cercare di abituarmi a fare che cosa? Ad amare la libertà delle donne, perché questo vuol dire amare le troie, mi guardate le storte dove è un pezzo femminista quello che ho fatto?